La prima domanda è difficilissima. Cosa serve all'Italia? Ha bisogno che appaltiamo il governo a un altro paese? L'Italia serve una presa di coscienza. Tutti gli italiani dovrebbero ammettere in che situazione siamo. Qualcosa del genere, non so, facciamoci governare degli svizzeri, a turno, dei norvegesi. Siamo un po' indietro rispetto al resto del mondo. Che abbiamo una responsabilità, quello che diciamo può essere preso anche alla lettera. Non lo so, io sono parecchio critico su questo argomento che è sul paese, proprio perché lo amo in realtà, perché poi chi critica è perché sente forse di più le falle. I giovani hanno sempre ragione, come è il detto. Purtroppo la nuova generazione le vedo, se devo essere sincero, veramente come dei rincoglioniti. Quindi non ho molta fiducia. Se penso che devo fare una figlia, mi vengo a dispararmi in testa. I giovani d'oggi sono fighissimi. Io li chiamo i nuovi giovani. Perché noi immaginavamo, passavamo la nostra infanzia a immaginare cosa arriverà in tv. E oggi è arrivato. Dovrebbero ascoltare più il rap americano, oltre a quello italiano, per capire veramente l'essenza e quelle che sono le radici del nostro genere musicale. Probabilmente noi siamo un popolo che reagisce, almeno storicamente, quando è proprio alle strette. Forse quindi, brutto dirlo, ma ci serve uno scossone, una scossa, qualcosa che spinga la gente a dimostrare chi siamo. I giovani d'oggi non è che fantasticano, adoperano, usano. E quindi sono più pratici, più coraggiosi, sono più pronti a rispondere. Sono troppo serio. Scusa, fratello! Ti voglio bene!